Non era mai stato a Mormanno il procuratore Nicola Garatteri, insignito del premio Faro 2021, insieme allo scrittore Antonio Nicaso, un evento per il Pollino che ha visto la presenza di un vero mito della legalità amato dai giovani e dalla calabria onesta. Vado nelle scuole, vado dappertutto dove posso per spiegare soprattutto ai giovani la non convenienza a delinquere. Spiego qual è la pericolosità e la perversità delle mafie. Se tutto questo dà fastidio ai manovratori, a chi gestisce il potere, mi dispiace per loro, ma io continuerò a parlare e continuerò, oltre a fare indagini, oltre a fare il procuratore della Repubblica, anche a raccontare i mali e le false narrazioni che ancora girano parlando di mafie, di massone di viate e di malaffare. Io posso rimanere a Catanzaro altri tre anni, però ovviamente entro tre anni devo trovare una collocazione, un'altra procura, perché a me piace tanto questo lavoro e lo amo in modo viscerale. Certo che c'è tanto da fare, c'è tanto da fare oggi, tra un anno, fra due, fra dieci. Ci sono tante cose, tante indagini da completare, tanti dibattimenti da definire. Andiamo avanti perché vogliamo contribuire a liberare questo territorio, la Calabria, che amiamo, vogliamo renderla più vivibile.